si può godere ancora di più il giorno dopo? assolutamente sì perché non lo so ma godiamo raga godiamo di una vittoria nel secondo tempo siamo entrati in partita già dalla fine però del primo tempo si stavano già vedendo dei cambiamenti ma finalmente ragazzi riusciamo a vendicarci per la seconda volta consecutiva contro il Cosenza che il primo giugno del 2023 ci ha mandato in Cerec poi siamo tornati in Serie B tramite ripescaggio godo ragazzi oggi siamo qua per portare un nuovo format le pagelle della Rosa che ha giocato ragazzi contro il Cosenza commentate ragazzi con le vostre opinioni e detto questo partiamo lezzerini ragazzi lezzerini che torna da un infortunio al gomito non mi sarei ovviamente aspettato una brutta prestazione come quella di ieri ma non potevo ovviamente aspettarmi magari un clean sheet non lo so il clean sheet alla prima partita dopo che si è tornati da un brutto infortunio non me lo sarei aspettato da un 5 e mezzo ma secondo me è anche giusto persino a destra Dickman non c'è nessuno che magari fra botta ragazzi gli ha tenuto un attimo testa perché comunque fra botta ragazzi ha l'esperienza della Juventus e della Champions di qualche partita in Champions League però ragazzi Dickman resiste è molto veloce ragazzi sempre molto veloce e della darei ragazzi un bel 6 e mezzo difesa ragazzi oggi Papetti non mi ha convinto del tutto qualche erroraccio ma dopo comunque ragazzi ha fatto comunque la sua partita ha tenuto bene le due punte del Cosenza gli do ragazzi un 6 un 6 e mezzo poi Davide Adorni il gol del Cosenza nasce da un suo più che errore da un po' sfortuna perché la palla gli è passata in mezzo alle gambe però darei ragazzi ottima partita gli darei un bel 7 ragazzi se non dovesse rimanerci Stana ha 31 anni quindi dobbiamo tenercelo assolutamente il più possibile terzino sinistro Alexander Iallo non di sicuro la sua miglior prestazione ma comunque serve comunque ai contropiedi della squadra 6 e mezzo centrocampista centrale Paghera Besaggio e Bisoli partiamo da Paghera Paghera ragazzi che viene sostituito verso la metà del secondo tempo non ho visto raga purtroppo molte azioni da parte di qualcosa ho visto ovviamente però secondo me oggi il gioco è passato molto di meno rispetto rispetto del solito a lui però ragazzi comunque quel poco che sono riuscito a vedere di Paghera gli darei raga un bel 6 e mezzo Bisoli Bisoli ha vinto lui questa partita sia per il primo giugno ragazzi per vendicarsi da quello che è successo dopo il gol che aveva fatto al 77esimo salva la partita sul colpo di testa di Meroni che sia il destino non lo so però il destino è e quindi ragazzi se abbiamo vinto questa partita è anche grazie al suo salvataggio in porta voto 8 e mezzo un'altra partita ragazzi di grande grande qualità poi Besaggio Besaggio oggi invece meno sicuro un po' più incerto qualche errore di troppo forse però non va bene lo stesso ha fatto comunque il suo gli darei un 6 un 6 un 6 un 6 non ci può stare adesso passiamo ai tre quartisti Bianchi e Galazzi partiamo ragazzi da Bianchi voto 6 non l'ho visto molto però comunque non molla comunque ci provava nonostante non arrivassero da lui tutti i palloni ho visto qualcosa ragazzi da Bianchi però non troppo ovviamente secondo me avrebbe potuto fare molto di più però la difesa del Cosenza ragazzi lo teneva molto voto ragazzi 6 poi Galazzi 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 voto 9 e mezzo perché non ha fatto tripletta se poi si è faceva la tripletta 10 subito partita di qualità comunque ha fatto un bellissimo partitone Galazzi se lo metto perché le sue ultime prestazioni non erano comunque molto convincenti però se lo merita sia per la grande stagione che sta facendo da quando è arrivato Maran perché prima con il coglione di Castaldello lo faceva giocare esterno sinistro alla cazzo di cane così però va bene partita incredibile giovane crescerà fortissimo voto 9 e mezzo e adesso passiamo a Borrelli Borrelli ragazzi che si è infortunato attenzione perché non si sa ancora bene dice che la stagione potrebbe essere già finita mi auguro di no perché se no mi tocco e voto ragazzi 5 e mezzo oggi veramente non l'ho visto ieri ma non so se per colpa magari già di una botta presa in precedenza però veramente l'ho visto veramente pochissimo non so cosa sia di successo però va bene adesso passiamo ai sostituti partiamo dal mio secondo me migliore ovvero Gabriele Moncini assist man del secondo gol di Galazzi che sancisce la vittoria al Marulla e secondo me ragazzi Moncini nelle ultime partite non erano molto convincenti come un po' quelle di Galazzi però veramente ha fatto una bella partita entrata ha fatto subito due tiri per un attimo stancare un attimo il portiere del Cosenza bello il passaggio per Galazzi voto 6 e mezzo si passa a Massimo Bertagnoli partita di qualità ottimo subentrato voto 6 e mezzo ma io ragazzi avrei detto 7 ma si è mangiato un gol a porta vuota ma va bene dalla partita abbiamo vinto lo stesso però voto 6 e mezzo poi Birkir Birkir Biarransson come il vino più invecchia e più è buono partita di qualità nonostante sia entrato nel secondo tempo voto 6 e mezzo si passa si passa Giacomo Olzer Olzer che nelle ultime partite non so come mai ma entra sempre con grinta con velocità entra con la con la cattiveia la voglia ma soprattutto per la situazione contrattuale del suo contratto perché scade a giugno 2024 sta giocando anche così bene anzi io sono contentissimo perché secondo me Olzer a inizio stagione era tutto totalmente un altro giocatore mi fa molto piacere che ora si stia un attimo ripigliando però ragazzi veramente ha tenuto molto bene la palla il più possibile per far perdere tempo a Cosenza voto ragazzi secondo me 6 e mezzo passa a Tom Vandeloy 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 quante brutte partite dovrà ancora fare oggi ragazzi non so come mai ha giocato poco ha giocato poco ma clamorosamente credo che sia la sua miglior partita incredibilmente della stagione da quando da quando è qua a Brescia non so come mai ha fatto davvero raga delle belle non è stato raga inutile incredibile non è stato inutile ha fatto qualche passaggio ha fatto un dribbling Tom Vandeloy ha fatto un dribbling voto 6 ho visto troppo poco gli do il 6 ma solamente perché raga ha giocato 5 minuti in croce però quel poco quel pochissimo che si vede ogni tanto di Vandeloy finalmente ho visto qualcosa però a Giulio fuori dai coglioni lo stesso e Maran invece allenatore voto 8 cucina mamma mia Maran come cucina lasciatelo cucinare il mostro di Trientino cucina molto meglio di quel pirla di Castaldello si spera in un possibile playoff dai raga crediamoci e adesso tutti a riga molti Brescia P e tutto questo bello